avvicinarsi alle due ruote porsi degli obiettivi e completarli è la cosa più bella del mondo non è soltanto la bicicletta è il contesto dove ti proietta che ti rende felice perché è questa la sensazione che ho io ogni volta che poggio i piedi sui pedali felicità ho mi 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 chi mi 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 Io dico sempre, my life is on two wheels. Io dico sempre, my life is on two wheels.